Vogliamo che le serate dell'estate romana non siano rovinate da episodi legati all'eccessivo consumo di alcol. Per questo oggi ho emanato un'ordinanza valida dal 7 luglio al 31 ottobre per limitare in alcuni casi il consumo di bevande alcoliche. Rispetto agli anni passati abbiamo aggiunto un maggior numero di municipi, su 15 sono 14 quelli interessati dall'ordinanza e le vie e le piazze sono tutte inserite all'interno di un elenco dettagliato allegato all'ordinanza medesima. I limiti sono i seguenti, dalle ore 22 non sarà più possibile consumare all'esterno, quindi nelle vie e nelle piazze, bevande in contenitori di vetro. Dalle 24 non sarà più possibile consumare all'esterno bevande alcoliche. Dalle 2 di notte poi fino alle 7 di mattina nessun esercizio commerciale potrà somministrare o vendere bevande alcoliche. Le sanzioni vanno da circa 150 euro per chi consuma al di fuori dei limiti fino a 280 euro per i negozianti che non espongono e che non si attengono a queste regole e che non espongono i cartelli. A proposito di cartelli ho fatto sì che quest'anno fosse allegata all'ordinanza una tabella riassuntiva dei divieti e delle relative sanzioni tradotte in quattro lingue, di modo tale che sarà facilissimo per tutti gli esercenti stamparla direttamente dal sito del Comune di Roma e affiggerla all'interno e all'esterno del locale. A chi frequenta i luoghi della Movida Romana auguro serate divertenti all'insegna della responsabilità. La città è di tutti!